ciao a tutti e bentornati a pillole di storia combo pitalia oggi è martedì quindi andiamo avanti con la seconda guerra mondiale andiamo avanti con la nostra narrazione della seconda guerra mondiale giorno per giorno io come al solito vi ricordo che se vi siete persi la pillola precedente o semplicemente state andandola a cercare trovate in descrizione tutto il link per trovare appunto la pillola scorsa peraltro una pillola molto importante principalmente incentrata sulla campagna di francia quindi se non l'avete vista andate a vedere prima di questo e tra una settimana troverete anche il link per la prossima pillola quella che uscirà martedì prossimo questa settimana però ci dedichiamo a due mesi molto importanti cioè a luglio agosto del 1940 due mesi in cui me ne sono reso conto buttando giù i punti le linee guida da seguire per raccontarvi questi due mesi la guerra diventa sempre meno europea sempre meno concentrata sul continente europeo e sempre più mondiale investendo direttamente parliamo proprio di combattimenti via terra anche l'africa dove eravamo rimasti avevamo lasciato la francia oramai in ginocchio ha chiesto e ottenuto l'armistizio dalla germania ha ceduto la germania gran parte del proprio territorio metropolitano e si è ritirata verso sud proprio nei primi giorni di luglio il nuovo governo petain sposterà la capitale da bordeaux a vichy sancendo sostanzialmente l'inizio di quella che è passata la storia come la francia di vichy non tutti i francesi però si sono arresi una parte infatti ha deciso di continuare a combattere e il nuovo leader di questa francia combattiva che lancerà le sue il suo richiamo tramite la radio londra chiamando se stesse le forze della francia libera sarà char de gaulle che nei mesi negli anni successivi raggrupperà intorno a sé intorno alla propria figura il ruolo di guida di questa francia che non si vuole piegare ai tedeschi ci sono però delle altre forze francesi che ancora combattono in particolare la flotta ora spero che vi ricordiate dalla puntata scorsa quello che vi avevo detto cioè al momento in cui i francesi parlarono con gli inglesi annunciando loro che al più presto avrebbero chiesto un armistizio alla germania perché ormai non erano più in grado di combattere churchill aveva posto come unica condizione quello che la flotta francese non si consegnasse per alcun motivo ai tedeschi e in effetti i francesi così avevano fatto nonostante le clausole armistiziali prevedessero che la flotta venisse consegnata ai tedeschi agli italiani questo non avvenne perché gran parte della flotta addirittura alcune navi che non erano ancora completamente rese operative avevano da tempo lasciato i porti francesi alcune avevano raggiunto l'inghilterra dove erano state internate alcune avevano raggiunto il porto di alessandria d'egitto e nei primi giorni di luglio sarà firmato un accordo che le internerà ovviamente all'interno del porto altre avevano raggiunto delle rade e dei porti situati nelle colonie francesi in nord africa e in centrafrica in particolare a dakar gli inglesi però non si erano così tanto fidati di questa mossa francese perché temevano che i francesi che peraltro ufficialmente si rifiutavano di cedere loro le navi anche quelle che erano lontane dalle mani tra virgolette tedesche potessero un giorno decidere di riutilizzare quella flotta e di unirsi proprio ai tedeschi cosa che avrebbe reso la posizione inglese soprattutto nel mediterraneo molto molto difficile perché la flotta francese era all'epoca considerata insieme a quella italiana la quarta flotta mondiale per questo nei primi giorni di luglio prepararono un attacco un attacco che visto con gli occhi di oggi può sembrare quasi assurdo pensare che inglesi o meglio le flotte della gran bretagna attaccasse la flotta francese che in realtà fino a pochi giorni prima aveva combattuto con loro aveva anche combattuto bene perché non ve ne ho parlato ma la flotta francese nei primi giorni di guerra con l'italia aveva addirittura bombarrato la liguria aveva partecipato all'operazione dinamo quindi al salvataggio delle truppe inglesi a danker che aveva partecipato all'operazione in norvegia insomma una flotta che aveva combattuto per e con gli alleati ebbene l'inghilterra deciderà che quella flotta piuttosto che farla cadere nelle mani tedesche andava affondata per questo nei primi giorni di luglio organizzarono una spedizione contro grosso di quella flotta che si trovava in algeria a mers el kebir l'attacco alla flotta a mers el kebir fu disastrosa per la flotta francese numerosi navi vennero affondate morirono più di un migliaio di marinai e fu una terribile onta per quella inglese che venne accusata di non avere alcuna pietà per gli antichi alleati sconfitti la cosa si trascinò talmente tanto nel tempo che quando a guerra più avanzata nel 43 nel 44 church il chiese a de gaulle di utilizzare la flotta per aiutare gli sbarchi in italia de gaulle gli fece presente che i marinai francesi avrebbero preferito prendere a cannonate gli inglesi piuttosto che i tedeschi insomma l'attacco a mers el kebir fu peraltro praticamente una mattanza perché le navi francesi si trovavano nella rada per niente pronte all'attacco e nonostante alcuni tentativi di diplomazia vennero sostanzialmente attaccate affondate una dopo l'altra lasciò una grossa grossa onta sull'onore della royal navi nei giorni successivi la royal navi una volta posto fine alla minaccia della flotta francese iniziò ad occuparsi di quelli che erano i suoi obiettivi più importanti cioè cercare di rifornire le truppe in egitto ora far passare dei rifornimenti da gibilterra fino all'egitto con in mezzo la flotta italiana sembrava una cosa molto molto complicata e il cardine della strategia per attuare questo passaggio era una sola cioè l'isola di malta l'isola di malta che si trovava a pochi chilometri dalle coste italiane era sostanzialmente un caposaldo inglese proprio nel mezzo nel cuore dell'impero italiano era assolutamente previsto che questo caposaldo venisse spazzato via erano stati preparati dei piani di invasione alcuni prevedevano l'uso della flotta altri prevedevano l'uso addirittura di paracadutisti ma tutti questi piani erano stati rimandati nel tempo con il risultato che nei mesi successivi alla guerra malta divenne appunto una vera e propria spina nel fianco della flotta italiana proprio a causa di dei movimenti di rifornimento necessari alle truppe inglesi ma anche a quelle italiane avvenne il primo scontro tra le due marine il 9 di luglio la flotta italiana comandata da inigo campioni almeno una parte della flotta guidata da due corazzate si scontrò contro una flotta inglese entrambe le flotte avevano sostanzialmente già terminato il loro compito che non era peraltro quello di trovarsi null'altro ma era di scortare dei trasporti dei trasporti tra gibilterra e malta nel caso della flotta inglese dei trasporti in particolare dei carri armati che erano stati richiesti da rodolfo graziani che era il nuovo governatore di libia e il nuovo generale delle truppe italiane in libia ma ne parleremo dopo di scortare dei carri armati per la flotta italiana entrambe le flotte però vennero ben presto a sapere che un'altra grande flotta nemica si trovava lì vicino ed entrambi i comandanti forti uno della vicinanza all'italia e l'altro della vicinanza a malta nonché della presenza di una porta aerea almeno per gli inglesi decisero di darsi battaglia la battaglia che sarà la più grande battaglia navale nel mediterraneo della seconda guerra mondiale fu sostanzialmente una battaglia inconcludente combattuta poco a largo delle coste della calabria vicino a puntastilo e passerà la storia come la battaglia di puntastilo vide inglesi e italiani scambiarsi molti colpi ma senza che le due flotte riescano veramente a dare un colpo definitivo uno all'altra anche se alla fine la flotta inglese fu costretta a ritirarsi e stessa cosa in realtà fece la flotta italiana per entrare nel suo porto la battaglia può essere considerata seppur inconcludente una vittoria inglese perché gli italiani erano fino a quel momento convinti di poter sfruttare vuoi gli aerei distanze in italia vuoi la propria flotta per bloccare completamente qualunque passaggio delle flotte inglesi nel mediterraneo invece al primo incontro tutto questo non era avvenuto da lì in poi nei mesi successivi per la flotta italiana che peraltro aveva un pessimo utilizzo della flotta in sé a causa di pessimi ammiragli ma soprattutto un pessimo utilizzo dei rapporti con l'aviazione che se nel caso inglese erano molto stretti si vedranno molto spesso l'uso dell'aviazione non solo quella di marina ma anche dell'aviazione di terra nelle combattimenti navali per gli italiani questo non avveniva anzi molto spesso l'aviazione e la marina erano in competizione sul fronte come se la guerra non fosse verso l'esterno insomma per gli italiani nei mesi successivi diventerà sempre più difficile combattere questa guerra vi ho parlato di rodolfo graziani dopo la morte di balbo graziani era diventato il nuovo comandante delle truppe italiane in libia eppure per tutti i mesi di luglio e agosto del 1940 sostanzialmente non portò nessun attacco verso l'egitto perché vi chiederete voi le motivazioni sono molteplici ovviamente motivazioni di tipo ambientale era difficile pensare di combattere con le temperature che ci sono in libia e nell'egitto occidentale tra luglio agosto motivazioni di tipo tecnico graziani riteneva di aver bisogno di altre truppe altri rifornimenti ma soprattutto di migliori strutture per poter portare avanti i rifornimenti fino all'egitto e poi anche di tipo politico perché il duce era convinto che così come la francia era rapidamente caduta in mano agli inglesi ai tedeschi ben presto i tedeschi avrebbe sarebbero sbarcati in inghilterra e così come aveva atteso fino all'ultimo sostanzialmente fino alla caduta francese per dare quasi un colpo dimostrativo per sedersi al tavolo della pace come aveva detto così forse sperava che nel momento in cui i tedeschi fossero sbarcati in inghilterra a quel punto gli italiani avrebbero potuto attaccare anzi addirittura sappiamo di una lettera che il duce aveva inviato a graziani in cui gli diceva non è importante che voi prendiate alessandria prendiate il cairo è importante che siate pronti che nel momento in cui i tedeschi sbarcheranno in inghilterra voi sferriate il vostro attacco sostanzialmente dicendo così che quando i tedeschi avranno vinto la guerra noi potremo sederci al tavolo dei vincitori insomma se non sul mare e negli attacchi aerei che gli italiani portavano peraltro anche contro l'Alessandria d'Egitto l'unico esercito italiano impegnato in guerra era quello nell'africa orientale italiano cioè sostanzialmente in etiopi in eritrea e nella somalia italiana il duca d'aosta che era capo della colonia si era ben presso trovato isolato l'esercito di cui disponeva era molto numeroso aveva quasi dalla sua 300 mila soldati ma era poco armato aveva poche munizioni aveva pochi autocarri e il territorio era enorme pensare di muoversi a piedi era assurdo aveva pochi rifornimenti si stima che per le armi leggere le uniche in realtà in buon numero in mano agli italiani avessero rifornimenti per non più di 6-7 mesi aveva poco carburante anche lì per 5-6 mesi senza contare le distruzioni che avrebbero potuto apportare gli inglesi insomma il fronte dell'africa orientale italiano era stato sostanzialmente abbandonato dall'italia che aveva promesso di inviare risorse ma poi non le aveva inviate il duca d'aosta aveva lanciato un piano secondo cui avrebbe dovuto marciare verso nord abbandonando piuttosto l'etiopia del sud e la somalia ma marciare verso nord attraverso il sud attraverso l'egitto per cercare di ricongiungersi con le forze provenienti dalla libia e sostanzialmente chiudere l'egitto in una morsa e aprire una via di rifornimento verso sud questo piano era però stato bocciato dal governo italiano che sostanzialmente gli propose di limitarsi a una difesa attiva il duca d'aosta che però sapeva che il tempo non giocava a suo vantaggio anche perché in quel momento l'italia aveva quantomeno dal punto di vista numerico un vantaggio nelle truppe ne avevano quasi 300.000 contro gli appena 20.000 inglesi in somalia decise di lanciarsi all'attacco e tra luglio agosto colse le prime e sostanzialmente uniche grandi vittorie dell'italia in questo scenario addirittura a metà agosto le sue truppe che erano penetrate all'interno della somalia britannica riuscirono ad occuparne la capitale sfingendosi poi nei giorni successivi ma ne parleremo nel prossimo capitolo addirittura in kenia anche verso nord la sua avanzata crebbe arrivando a occupare i primi contrafforti del sudan ma senza un'avanzata proveniente dalla libia ogni suo tentativo sostanzialmente non aveva anche molto senso anzi consumava quelle poche risorse che di cui aveva di chi aveva a disposizione ci siamo concentrati sull'africa perché è un fronte nuovo perché dopo tutto il mediterraneo è un fronte che ci interessi vi lancio come notizia ma ne parleremo nelle puntate successive il fatto che proprio in questi mesi peggioreranno fortemente i rapporti tra l'italia e la grecia anzi l'italia inizierà a parlare espressamente della volontà di occupare la grecia di invadere la grecia uno stato peraltro che dal punto di vista politico poteva essere molto vicino ai tedeschi d'altronde era anch'esso sostanzialmente una dittatura di destra ma pensavano gli italiani di invadere la grecia perché vedevano nella grecia un possibile alleato dell'inghilterra ma almeno in questi mesi tutte queste parole saranno solamente parole perché la germania più volte lancerà l'altolà bloccando qualunque tentativo d'altronde aveva ben altri interessi la germania che andarsi a impegolare in una guerra balcanica e probabilmente hitler iniziava a capire che mussolini era tante parole ma poi alla fin fine pochi fatti dicevo abbiamo parlato del mediterraneo però ci siamo dimenticati del grande elefante nella cristalleria abbiamo lasciato la germania subito dopo la vittoria con la francia e così come churchill aveva annunciato alla camera dei comuni di fronte a la rifiuto da parte degli inglesi di trattare qualunque pace alla germania non rimaneva che una cosa da fare cioè cercare di invadere l'inghilterra ora dei piani per l'invasione dell'inghilterra nome in codice silo cioè leone marino erano stati già preparati anche nei mesi precedenti ma sostanzialmente dovettero essere ben presto rivisti perché la flotta aveva ben presto spiegato che era impossibile pensare di prendere il controllo della manica semplicemente utilizzando la flotta la disparità era troppo evidente e l'esercito aveva spiegato che se lo sbarco doveva riuscire nonostante le poche truppe inglesi che erano rimaste sul nell'isola questo doveva avvenire in più punti quasi attraversando la manica disse qualcuno come fosse un fiume piuttosto che un tratto di mare insomma attaccando in più punti e ripeto questo nonostante gli inglesi avessero poche forze ma perché come aveva detto churchill nel caso di un'invasione tedesca era pronto a lanciare il motto puoi sempre portarne via uno con te insomma gli inglesi erano pronti a combattere fino all'ultimo uomo per la loro casa per questo i tedeschi dopo aver rinunciato a qualunque tentativo di trattativa decisero di lanciare prima di tutto l'attacco dal cielo distruggere gli aerei inglesi distruggere gli aeroporti inglesi poteva rendere la manica un mare un tratto di mare assolutamente innavigabile per la flotta inglese avrebbe potuto permettere ai tedeschi di attraversarlo per riprendere l'invasione il 12 di agosto vengono lanciati i primi attacchi l'obiettivo almeno inizialmente saranno gli aeroporti e le stazioni di radar che si trovano nella nell'inghilterra meridionale il 13 di agosto nel giorno in cui finalmente il tempo è perfetto per l'attacco viene conosciuto come adler tag cioè il giorno dell'aquila il giorno in cui la germania per la prima volta lanciò tutto il proprio potenziale di bombardieri caccia stuca caccia bombardieri qualunque cosa avesse per cercare di piegare le difese dell'inghilterra al momento dell'attacco le forze erano in grandissima disparità sebbene parzialmente indebolite ovviamente dalle campagne quella di polonia prima quella in norvegia e poi anche soprattutto la campagna di francia la luce cioè l'arma aerea del terzo rai che guidata da herman goering era molto più forte e molto più numericamente avanzata rispetto a tutto ciò che gli inglesi potevano schierare avevano quasi tre caccia contro due avevano più di 1200 bombardieri numeri più di quattro volte quelli inglesi che peraltro non potevano ovviamente utilizzarli per una guerra difensiva avevano stuca avevano veramente tantissimi tantissimi aerei e non avevano paura di usarli avevano dei piloti esperti dall'altra parte però gli inglesi potevano contare su alcuni indubbi vantaggi primo fra tutti i loro aerei almeno per quanto riguarda i caccia erano alla pari se non addirittura più avanzati di quelli tedeschi il Messerschmitt Bf 109 era un ottimo aereo da caccia aveva dimostrato la sua forza sui cieli della Francia ma aveva poca autonomia e così quando si doveva scontrare contro gli hurricane e gli spitfire inglesi si trovava molto spesso in inferiorità proprio per perché poteva rimanere per poco tempo sui cieli inglesi inoltre gli inglesi potevano attendere l'avversario sulle proprie coste e il fatto che si combattesse molto spesso sui cieli inglesi voleva anche dire che quando un aereo veniva colpito il pilota poteva farlo atterrare magari distrutto tornare all'aeroporto e addirittura quel giorno stesso tornare a combattere mentre invece molto spesso un pilota tedesco o moriva perché cadeva in mare o veniva catturato dal nemico e se un aereo si poteva sostituire un pilota esperto non era così facile da farlo il terzo grande vantaggio degli inglesi era ovviamente il radar radar che i tedeschi avevano sottovalutato ma che permetteva agli inglesi sostanzialmente di sapere sempre dove stavano arrivando gli squadroni tedeschi secondo alcuni inoltre gli inglesi già iniziavano a tradurre e a captare gran parte delle informazioni degli su che giungevano dagli alti comandi tedeschi e tutte queste informazioni radar torri d'avvistamento civili torri d'avvistamento militari informazioni captate aggiungevano tutte all'interno di una sala di controllo dove dividevano le caccia dove dividevano le forze presenti per poter contrastare gli attacchi i primi giorni di guerra videro un massiccio attacco da parte tedesco che costò moltissimo ai tedeschi le perdite erano quasi il doppio rispetto a quelle degli inglesi senza che almeno i tedeschi potessero venire vedere delle così grandi danneggiamenti negli aeroporti e nei radar inglesi. Nonostante questo in realtà nelle prime settimane l'idea di attaccare gli aeroporti e i radar funzionò benissimo tanto che si stima che se avessero continuato in quel modo molto probabilmente i tedeschi sarebbero riusciti a mettere in ginocchio la RAF obbligandola ad abbandonare il sud dell'Inghilterra e sostanzialmente concedendo campo libero ai tedeschi. Le cose però cambiarono. Intanto dopo i primi giorni di guerra erano stati ritirati gli Stuka. Perché? Beh gli Stuka vi ricordate erano quegli aerei da attacco a terra, erano ottimi per l'uso nel bombardamento di postazioni radar o di aeroporti perché erano in grado di colpire in maniera molto chirurgica ma erano utilizzati in maniera sbagliata perché troppo spesso venivano lasciati soli a combattere contro i caccia avversari. Ma mentre uno Spitzfer volava a 500 km all'ora uno Stuka si fermava a 300, 350 km all'ora con ovvi problemi nel combattimento. Inoltre i tedeschi avevano creato delle trappole, avevano ben presto capito che uno dei modi migliori per scontrarsi con gli inglesi era creare delle trappole, cioè dei gruppi aerei composti principalmente da caccia o con pochi bombardieri e tanti caccia in modo da catturare in combattimento appunto i caccia inglesi ma gli inglesi ben presto avevano capito come riconoscere un gruppo dall'altro e molto spesso si concentravano solamente sui bombardieri. Addirittura ad un certo punto i tedeschi avevano lanciato un ordine nessun caccia poteva volare sull'Inghilterra se non in accompagnamento a un bombardiere. Il risultato è che il vantaggio di velocità che i caccia potevano avere veniva sostanzialmente finiva a causa del fatto di dover accompagnare i bombardieri, tanto che la maggior parte dei caccia venivano colpiti e distrutti proprio mentre facevano funzione di scorta. Nonostante questo, nelle prime settimane, ripeto, gli inglesi erano ormai quasi in ginocchio. Le ferite, seppur minore dei tedeschi, erano per loro assolutamente insopportabili e i tedeschi sembravano essere pronti a vincere anche questa battaglia. Qualcosa però stava per cambiare. Nella notte tra il 24 e il 25 di agosto dei bombardieri tedeschi, molto probabilmente per errore da quel che ne sappiamo, bombardarono un sobborgo di Londra. Gli inglesi, che peraltro non avevano avuto dei danni così grandi, però reagirono e Churchill ordinò che per il 26 di agosto bombardieri inglesi giungessero su Berlino bombardando la capitale. Fu poco più di un atto dimostrativo. Eppure la capitale del Reich era stata violata, cosa che Goering si era impegnato che non avvenisse mai. Hitler si infuriò tantissimo. Da quel momento l'obiettivo dei tedeschi iniziò a cambiare e se fino a quell'omento si erano concentrati su obiettivi militari stavano per girare, cambiare il loro obiettivo e puntare su Londra, puntare sulla capitale. Ne parleremo nel prossimo capitolo, ma questa scelta forse fu quella che fece fallire l'invasione dell'Inghilterra. Però, come detto, ne parleremo nel prossimo capitolo, perché i bombardamenti su Londra iniziano a tutti gli effetti nel settembre del 1940. Bene, è stata una pillola lunga, spero di avervi raccontato tutti gli avvenimenti che si sono succeduti, spero di averlo fatto in maniera abbastanza comprensibile. Noi ci vediamo martedì prossimo per andare avanti con questa storia della seconda guerra mondiale mese per mese, ci vediamo domani per un'altra pillola di storia, normale. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi per vedere le prossime puntate, io come al solito vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di metterne le loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qui a fianco. C'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso, ci vediamo domani per un'altra pillola, ci vediamo martedì per andare avanti. con questa storia. Alla prossima! Ciao ciao!